muo' tempo dentro di non è a mi me passa uguali non se non diego e io mi so io non leo muo' tempo dentro di non è se a mi me passa uguali non è ho fatto una georganizzazione lei in pratica mi sta aveva artellato che voleva la cucina Italia stava martellando Allora io non so bene cosa ci facciamo qui ma siamo in un centro massaggi per colpa di cristiano Amore commenta un po' questa cosa Non so cosa stiamo facendo Lei è scioccata dalle dimensioni del dito di Ugo Stanno ridendo tutte e tre Sono scioccata Amore stanno Grazie